Oggi c'è questo sit-in di dipendenti della tua davanti agli uffici della regione a Pescara. Parliamo di dipendenti che non sono iscritti a sindacati e che chiedono meno poltrone, meno incarichi, più lavoro. C'è da dire che l'amministrazione regionale con la riforma ha tagliato le corse del 5%, corse dei pullman penalizzando le aree interne, ha aumentato i biglietti del 15%. Non solo, dalla sera alla mattina parte di questi dipendenti si sono visti sbattuti da Tua Sangritana, che è una società fallimentare, una società che è un nuovo carrozzone e loro non sanno quale futuro ci sarà. Noi riteniamo che le linee commerciali si possono tranquillamente gestire all'interno di Tua separando solamente i bilaggi. Poi contestiamo i troppi dirigenti, le tante poltrone, i tanti sprechi. Ci sono circa 100 dipendenti in esubero tra gli amministrativi che sono in ufficio, che a nostro avviso dovrebbero andare sugli autobus a svolgere le attività di controllori per le operazioni anti-evasione. Il problema serissimo è che i mezzi continuano a uscire non sicuri, con le spie rosse accese, mettendo a serio rischio l'incolumità dei viaggianti, dei viaggiatori e quindi anche del personale, e naturalmente degli autisti che si devono assumere la responsabilità. Ecco, ci sono tante cose che non vanno, tante cose che non vanno bene, o c'è un'inversione di rotta o altrimenti si rischia anche di privatizzare il servizio pubblico regionale perché non andando bene il pubblico si sta tendendo di svendere e di lasciare che entrino privati nella gestione del pubblico e questo a noi non ci sta bene. Avete chiesto un incontro con il Presidente della Regione? Il Presidente non è uscito, abbiamo parlato solo con il segretario, con Enzo Del Vecchio, il quale si è limitato a dare i suoi contatti ai dipendenti della tua, null'altro, vedremo quel che sarà.